...si coinvolge su un problema molto serio che è quello dell'esigenza di insieme approntare la problematica di chi non ce la fa ad approntare il pasto del pranzo e quello della sera. Il problema è che c'è un'ambianza di fiducia tra le persone, tra le istituzioni, allora la scuola certe volte non si fida della famiglia, la famiglia certe volte non si fida della scuola. Anche anni fa mi sembrava forse nelle cose ascrivibili ad una fetta molto circospinta, molto piccola. Il più importante della nostra comunità è la sala in cui periodicamente si riunisce il Consiglio Comunale e che viene utilizzata proprio perché la sala del Consiglio Comunale viene utilizzata solo nelle occasioni...